Una persona arrestata, sei denunciate e varie sanzioni amministrative per detenzione di stupefacenti e il bilancio dell'intensificazione dei controlli in centro storico di Marsala da parte dei carabinieri della Compagnia di Marsala, coadiuvati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Sicilia di Palermo. Durante l'ultimo fine settimana i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato in flagranza per violenza e resistenza un cittadino tunisino noto per numerosi episodi di disordine nel centro storico. L'uomo che avrebbe minacciato ripetutamente la proprietaria di un chiosco in Piazza Matteotti è stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo mentre brandeggiava pericolosamente delle bottiglie in vetro rotte. L'uomo ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma prima di essere dichiarato in stato d'arresto. All'esito della convalida gli è stata applicata, su richiesta della Procura, la misura cautelare della custodia in carcere. I controlli sono proseguiti con il deferimento e stato di libertà di cinque marsalesi per vari reati, da porto di armi, oggetti atti a offendere, a guida senza patente e violazioni a divieti di accesso ad aree urbane. Sono stati infine controllati altri cinque giovani che verranno segnalati alla Prefettura di Trapani per la detenzione di stupefacenti di varia natura come marijuana, hashish, cocaina e crack. Grazie a tutti.